Io credo che non abbiamo fatto ancora tanti discorsi così, io credo che tutti e tre siamo sullo stesso livello, ognuno può giocare sia in Champions che in Campionato o in Coppa Italia. Noi credo se vogliamo essere una grande squadra dobbiamo avere 22 giocatori importanti, non 14-15, questo deve essere l'obiettivo dell'Apoli, questo deve essere l'obiettivo di ognuno che quando sta in panchina di non essere triste, di aspettare la prossima partita, di non vedere l'ora quando sta in campo.